e ciao a tutti ragazzi benvenuti nel terzo video relativo ai convogli criminali questo è il convoglio numero 13 su 18 sapete che sono tre video da sei l'uno e vediamo cosa hanno da chiederci siamo a brandon docks questi stronzi se la prendono con gli immigrati clandestini persone in via degli eventi che non possono possi in alcun modo ma è in arrivo una gran bella sorpresa consegnerò il capobando alla polizia così se ne occuperanno loro è morto vivo ma vediamo a terra vivo cazzo va bene allora forse a pensarci bene l'unica soluzione anzi non l'unica però insomma una soluzione molto appetibile potrebbe essere quella di bloccare il ponte qui in modo poi da prendere il destroyer e cominciare un po' a sparare qualche pallettone destroyer eccolo qui allora il convoglio è quello là veicolo è andato veicolo è neutralizzato buono un altro è andato ok preso uno c'è una stabilità di merda e cazzo è andato quell'altro ma perché si nascondono lì che palle via 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 ma come cazzo fanno a prendermi che roba hai fatto incazzare la gente sbagliata ma che cazzo raga la macchina neutralizzata buona punto abilità andiamo no sono tutte intere zio ho una gamba ho una stabilità in più però a me non farebbe schifo bello lì forza avanti in prossimo quelli che appassi una volta tipo così lancia sta granata forza te la sei lanciata da solo coglione oh ce n'è uno lì che bello vieni qui che ti vizio vieni forza diciamo ho combattuto con persone in posizioni più comode dove cazzo credi di andare se mi costringi a venirti a prendere dovrò farti parecchio male lo sai questo tutto bastardo granata vabbè non è servito a niente però preso forza andiamo ce n'è più tre forse due non lo so tira la cazzo di granata che ti devo dire li devo stanare da lì ed è fatta ora ne ho abbastanza sono in due raga contro due non posso fallire dai tu dove sei merda non lo vedo più ok ha lasciato il mezzo mi raccomando non va no assolutamente anzi non va assolutamente ucciso il bersaglio no 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 giro ti devi avvicinare zio ti devi avvicinare per forza se riesco a venirti a prendere ho vinto buono vai via senza regole portata a casa 13 convogli su 18 bene così benissimo direi e anche altri soldi che abbiamo messo in saccoccia quindicesimo convoglio criminale signori siamo sto vedendo la luce in fondo al tunnel se così posso dire certo che palle però per mezza coglioni eccoci qui a pony proprio estremo nord della mappa anzi nord ovest passato il segno quelli che provano a ribellarsi finiscono sempre male ma ora ho finalmente scoperto chi c'è dietro anzi vai a capire chi c'è dietro cheat ok mobilizza due bersagli prima che raggiungano la destinazione voglia aspetta però aspetta 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 un attimo aspetta un secondo eh cheat non vorrei che poi prima o poi venisse quel contratto anzi quel convoglio criminale dove tipo loro possono comunque raggiungere la destinazione indipendentemente da quello che fai tu non so potrebbe anche succedere un giorno o l'altro comunque considerato che questo contratto continuo a chiamarli contratti comunque questo convoglio criminale c'è da un bel po' potrebbe anche essere che magari è un pochino più semplice rispetto agli ultimi sono nella merda sono un po' nella tana del lupo sapete vanno atterrati i bersagli ok 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 c'è problema il pezzo di merda è scappato oh cazzo sono troppi il bersaglio è armato ok uno c'è anzi due in realtà ok buono neutralizzato merda dove cazzo sei fammi imparare qua dietro ok no è il bersaglio quello che vuoi fare ok tanto voglio fare questo poi se ne riparla angolo a me che i bersagli sono in una posizione scomodissima in questo momento preso in testa buono bene sono dei fucili tipo potentissimi quando non li colgo che rabbia su per le montagne bravo bravo corri a casa della mamma no no adesso corro a prenderti altro che eh che cazzo cazzo di armiciano voglio sapere dov'è il terzo è lui tra l'altro si sta anche facendo sera quindi preso ok minchia due anni per ucciderlo però ok vanno presi dal dietro questa è una cosa sicurissima ora una cosa utile potrebbe essere ripararsi dietro la casa cos'è tutta vostra scusa? cazzo è finita ma che è finita cioè si è finita per voi il problema è che sono in due that's the problem ecco muori uno ok e adesso va preso il secondo per me è che è una mossa sbagliata potrei pagarla carissima risolviamo la faccenda da uomini vieni fuori eccomi completato ragazzi 15 su 18 giustizia sommaria come cazzo si chiamava va bene va benissimo qualsiasi modo si chiami a me va bene e andiamo avanti sedicesimo convoglio criminale su 18 ragazzi si stanno facendo veramente difficili adesso cioè veramente un dittino in culo come si può dire e siamo tornati in centro città a The Loop normalmente li lascerei ammazzarsi tra di loro ma stavolta hanno scelto un luogo pubblico per la loro imboscata e questo non lo posso permettere ok non sono tanto lontani ma c'è un veicolo tipo di quelli solidi sentiamo non è disponibile è vero cazzo fuori ora oh merda ora non è il momento di ascoltare Gimme Dancer sinceramente ho cose migliori da fare anzi in realtà peggiori da fare ok sicuramente sarà un contratto veramente un dito in culo assurdo perché già me lo sento i bersagli sono due e non passeremo dei bei quarti d'ora potevo rubare l'ambulanza però sti cazzi che qualcuno è stato neutralizzato forse se ci sono degli antisommossa fatemeli vedere subito così poi ecco l'antisommossa ovviamente mica ho fatto fuori va bene adesso mi scaglio contro quell'antisommossa lì è buona uccisione elite buono qualcuno è stato fatto fuori colpitelo però a me serve l'antisommossa che non c'ho eh la prima antisommossa si mette vicino ai bersagli e io giustamente se no farei il bullying che ho due coglioni però antisommossa vieni a me ok fuori un antisommossa dovrebbero essere due mi aspetto già mi aspetto già tipo l'ultimo convoglio criminale tutti antisommossa non sarebbe una novità che non ti posso buttare giù ma te si cazzo problema è che non ho tempo per correggere la mira perché se ci parlo troppo lento poi non gli uccido quello è il problema ok antisommossa ha fatto fuori il che è buono quindi posso scendere via fermati forza che fai? non voglio allora cominciano a sparare certo non potevo mettermi in punto peggiore via ok meno male ci sono le macchine meno male sono dei punti centrali di questo gioco le macchine che affare che è perché non posso scendere intanto atterrare lui perché è in compagnia è in dolce compagnia colpitelo ok troppo a morire vero come si muore mamma mia che volo che hai fatto ma dato che ho sbloccato l'abilità anzi una delle poche che io volendo posso neutralizzare veicoli a forza di colpirli che infliggo più danni perché non si può applicare questa cosa perché sono ancora interi eh che cazzo e poi non sono neanche così tanti il problema è che sono aggressivi quello è il problema però magari così potrei uno toliti signora ok ce n'è rimasto uno ancora ok colpo in testa sono rimasti solo i bersagli beh mi può anche ripristinare la visuale grazie e tra l'altro sono anche belli distanti uno dall'altro meglio di così fuori uno l'altro dov'è? sotto ok non posso sbagliare non posso fallire adesso allora sei mio boom boom track lunga divisione 16 su 18 ne mancano due che bella sensazione ragazzi e poi l'ho già spiegato quando facevo i contratti da fixer io ho fatto 4 missioni del primo atto quindi c'ho tipo un botto di abilità che non posso sbloccare perché non sono arrivato un sufficiente punto della storia per poterli sbloccare anche i suoi punti da parte e quindi questa cosa mi limita molto perché potrei rendermi le missioni il doppio più facile ma non lo faccio penultimo con voglio criminale ragazzi mi stanno facendo veramente diventare pazzo cioè sono difficilissimi questi cosi e come ho già spiegato non ho tutti i potenziamenti attivi quindi è ancora più difficile se la gente non può fidarsi di chi dovrebbe proteggerli allora ogni speranza è perduta non è la soluzione migliore ma si meritano una lezione ah tracciato brevissimo oh c'è da far fuori la polizia dammi questo mezzo pesante così l'investo per bene va e non chiamare la polizia perché tanto arriverò prima di loro che poi è un convoglio maledetto perché qua ragazzi se ammazzi un agente di polizia ti abbassa la deputazione che è già la mia è messa malino merda mi hanno già colpito già sotto torque mi hanno messo addirittura il supporto aereo vi serve ma siccome quello è lì io potrei fare questo via via ce la sto facendo non ci credo l'ho preso così alla cazzo duro senza ammazzare nessun altro poliziotto allora dammi questa cosa qui qualunque cosa sia dammela perché potrebbe essere la chiave per la libertà dammela ti prego ci faranno un meme su quello che ho appena detto ma non sono abbastanza popolare perché questo accada però era da meme d'altro due stelle anzi due riquadri di ricercato solo sono buoni god e qualcuno è stato fatto fuori sparate sparate forza sparate dai boom chicka boom boom baby cosa cazzo ha detto non lo so ma è stato quasi un urlo di gioia dai ora ok tutto però forse ha cambiato macchina non ha cambiato macchina è che devi cambiare lavoro dammi retta come l'ho preso come l'ho preso l'ho visto lì solo ho detto vabbè qua si va l'azione si va l'attacco e o la va o la spacca e la spacca anzi l'è andata in realtà forza eccessiva 10.000 dollari anche un punto abilità cioè fate voi cioè bitch please e ragazzi finalmente ultimo convoglio criminale lo facciamo parecchio dopo la ripresa della storia perché mi è spuntato molto 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 tardi e noi lo andiamo a fare è il numero 18 su 18 perché gli scacchi requiescat in pace cheat mega super cheat ragazzi mega super cheat e tutto condito da una bella dose di corruzione aziendale a volte mi vengono serviti su un piatto d'argento ok solito convoglio e vediamo qua quanto cazzuto sarà l'auto di Olivier Garnot Garnot come cazzo si chiama Garnot vabbè non importa ma più che altro il problema più grosso sarà fermarla prima che arrivi in destinazione il che non è facile c'è neanche il ponte c'è invece c'è questo che non basta cazzo datemi una macchina una qualsiasi una macchina non c'è macchina si c'è 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 dov'è il Garnot ok c'è ancora strada da fare lo possiamo riprendere è un chilometro ma possiamo accorciare Di certo con l'altra macchina Sarebbe stato tutto più semplice Ti sto venendo a prendere bastardo Uh merda Sì sì lo prendiamo Lo prendiamo Lo prendiamo Lo prendiamo Fiducia Piena fiducia ragazzi Piena fiducia ragazzi Via dal cazzo Via dal cazzo Ok sì lo prendiamo dai Andategli addosso, forza Atterra il bersaglio Merda Che puttanaio L'anti sommossa, andito un culo assurdo Non l'ho neutralizzato Due anti sommossa Che cos'è? Ok, piano B Piano B Ok, l'anti sommossa è meno Ok, ucciso un'elite Andategli addosso, forza Lui è il bersaglio Lui si può atterrare Ok, neutralizzato Adesso devi scendere brutta merda Vieni qui Altra uccisione Ok Altra due macchine C'è da fare il domino, raga Per forza Altro criminale Ok Vedo la meta Cioè, togli te del cazzo Togli te del cazzo Togli te del cazzo Togli te del cazzo Ok Ok, a posto Adesso mi rimane solo neutralizzare L'ultimo E cazzo Ok, uccisione elite A posto C'è un'anti sommossa Ma noi non abbiamo paura Dell'anti sommossa Vieni neutralizzato Godo Forza, vieni fuori Anti sommossa del cazzo Vieni fuori Vieni fuori Vieni fuori Ok Siamo solo io e te adesso Cazzo, siamo in una scena di Call of Duty questa Siamo soli Soli io e te siamo Convoglio criminale Vieni qui Vieni Boom E ragazzi Furia stradale Trofeo guadagnato Ultimo Convoglio criminale Sventato Punto abilità Eccolo qui Sono cinque Vediamo cosa prendere Aumento della concentrazione Assolutamente sì E' a posto ragazzi I convogli criminali Sono giunti al termine E' a posto Unico Mi